La cosa che preferisco di Groupon è il concetto di semplicità che c'è alla base, semplicità bidirezionale da una parte per l'utente finale che in tre clic può accedere a un mondo di opportunità nel commercio locale e la semplicità anche per il mondo del commercio locale, quindi i commercianti che ci sono tutti i giorni per strada che hanno la possibilità di accedere a un canale di comunicazione ad un costo relativamente accessibile che però è visibile da molti milioni di persone. Il secondo concetto è quello di comunicazione mobile di cui abbiamo ampiamente parlato, ovvero il fatto che sempre di più gli utenti utilizzano il nostro servizio sul proprio cellulare e questo aiuterà non solo l'utente finale ma anche i merchant ad avere accesso a uno strumento ancora più semplice e ancora più interessante dal punto di vista della user experience e della comunicazione. Groupon ha avuto molto più successo in Italia rispetto ad altri paesi e in questo momento dopo gli Stati Uniti è il mercato fra i più importanti mercati dopo gli Stati Uniti e quindi sicuramente ha avuto un successo maggiore per due ragioni, da una parte la qualità delle risorse che abbiamo messo in campo in termini di persone e dall'altra gli italiani vanno pazzi per i risparmi e per gli sconti e in questo momento è ovvio che noi siamo relativamente avvantaggiati rispetto ad altri mercati dove magari la condizione economica è relativamente differente.